Buonasera a tutti e grazie a tutti che siete uniti alla nostra compagnia. Trascorremo insieme una serata in allegria. Gli ingredienti giusti ci sono stasera. Abbiamo una bella serata per fortuna. Un magnifico pubblico, giochi, canzoni, premi e tanta tanta musica. Vedrete che ci divertiremo. Dunque dovete essere fieri nella vostra gioventù. Vedete che l'oratorio, non abbiamo oratorio come strutture. L'oratorio a mio avviso non sono le strutture. Possiamo avere tanti bei posti, tante belle cose e poi non avere persone. L'oratorio si costruisce con le persone e imparate da questi giovani davvero che hanno dato quest'anno con la festa della mamma, con la sagra, proprio davvero la dimostrazione di stare insieme. Grazie. 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 terza prova, terza e l'ultima prova siamo due centri come Pantene numero 89 numero 69 numero 61 non dici una parola che non mi guarda mai il diretto della ritora che non perdone il tuo cuore il tuo cuore iniziare e andare e le cuore e me cuore Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.